La pastorale vocazionale è lungi dall'essere un compito da relegare a un ufficio burocratico e anzitutto un incontro con il Signore perché quando accogliamo Cristo viviamo un incontro decisivo che ci tira fuori dall'angustia del nostro piccolo mondo e ci fa diventare discepoli innamorati del Maestro. Con queste parole Papa Francesco ha accolto i partecipanti al convegno internazionale di pastorale vocazionale, mettendo poi a fuoco tre verbi specifici, uscire, vedere, chiamare. Oggi infatti c'è bisogno di una Chiesa capace di allargare i propri confini misurandoli non sulla ristrettezza dei calcoli umani o sulla paura di sbagliare ma sulla misura larga del cuore misericordioso di Dio. Sull'esempio di Gesù i sacerdoti oggi devono essere tra il popolo senza chiudersi nella fortezza sicura della canonica, capaci di vedere con lo sguardo del pastore senza fretta, svegliando le persone dal torpore in cui la cultura del consumismo e della superficialità ci immerce con grande attenzione ai giovani. Invece di ridurre la fede a un libro di ricette, mettere gli individui in cammino smuovendoli da una sedentarietà letale, rompere l'illusione che si possa vivere felicemente restando seduti tra le proprie sicurezze. So bene che il vostro non è un compito facile e che talvolta, nonostante un impegno generoso, i risultati possono essere scarsi e rischiamo la frustrazione e lo scoraggiamento. Ma se non ci chiudiamo nella lamentella e continuiamo a uscire per annunciare il Vangelo, il Signore ci resta accanto e ci dona il coraggio di gettare le retti anche quando siamo stanchi e delussi per non aver pescato nulla.